Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi, molti si chiedono che lavoro faccia e quale sia il suo patrimonio Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi, molti si chiedono che lavoro faccia e quale sia il suo patrimonio Leggi anche, Alessia Marcuzzi, chi è suo marito Paolo Calabresi Marconi? Età, lavoro, figli, Instagram che lavoro fa Paolo Calabresi Marconi? Paolo Calabresi Marconi viene associato spesso ad Alessia Marcuzzi, essendo suo marito Nonostante il suo nome sia poco conosciuto nell'ambito televisivo, in realtà, la correlazione fra lui e il mondo dello spettacolo è strettissima Paolo, infatti, è un produttore televisivo, titolare oltretutto della Buddy Film, una casa di produzione specializzata nella realizzazione di spot per il piccolo schermo Il marito di Alessia Marcuzzi è più grande di lei di qualche anno, Paolo, infatti, è classe 1964, mentre sua moglie è del 1972 Proprio in merito a suo marito, la conduttrice ha detto, Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi erano già conoscenti da molti anni, prima di diventare marito e moglie Alessia Marcuzzi e il marito Paolo La love story ha detto della Marcuzzi, comunque, suo marito Paolo si è preso un pacchetto complicato, lei infatti è sempre stata una donna irrecchieta, ma grazie a lui è diventata più pacata e ponderata I due si conoscevano già da ventenni e il produttore televisivo ha rincorso la conduttrice per un po', fino a quando, finalmente, le tempistiche hanno giocato a loro favore Patrimonio e stipendio non sappiamo a quanto ammonti precisamente il patrimonio del marito della Marcuzzi Seguici su Instagram cliccando qui